Cosa è la prima dimensione? Cosa è una art star della nostra storia, sapendo che comunque non potevo far altro che ricordarne qualche cosa, anche perché non c'è un documento che dica com'era la sua voce. Ma l'interesse principale è stato raccontare il momento della creazione, cioè ciò che passa dal momento dell'idea al momento della realizzazione, particolarmente per Michelangelo che aveva un rapporto così forte con la materia, quale che sia, è stato un bel viaggio da fare.